Bloccare l'aumento dell'età pensionabile previsto per il 2019 a 67 anni per via dell'adeguamento all'aspettativa di vita e trovare nuovi criteri è la principale proposta contenuta nel documento unitario presentato da CGL e Cisle Will al governo. Gli stessi sindacati chiedono poi uno sconto pensionistico fino a tre anni per le lavoratrici che abbiano avuto o adottato dei figli. Nello specifico un anno per ogni figlio fino a un massimo di tre. Non è tutto, andrebbe poi riconosciuto un bonus contributivo alle donne che assistono al coniuge un parente stretto convivente con grave handicap. Si tratterebbe di aggiungere un anno ogni cinque al computo dei requisiti contributivi fino a un massimo di quattro. Per quanto riguarda i giovani allo studio dei sindacati ci sarebbe l'ipotesi di garantire un assegno mensile minimo di 600-620 euro per chi andrà in pensione con il sistema integralmente contributivo a 63 anni e 7 mesi nel caso in cui i contributi versati non siano sufficienti. In caso di lavori gravosi inoltre per accedere all'anticipo pensionistico sociale o app e social per i sindacati il requisito va ridotto da 36 a 30 anni, richiesta alla quale si unisce quella di allargare le categorie di lavoratori che svolgono appunto questi impieghi. Infine i sindacati chiedono di estendere gli incentivi fiscali per la previdenza integrativa anche ai lavoratori pubblici. Lo spazio per lavorare sulle pensioni è molto ridotto, fa sapere il ministro del Rio. Il confronto con il governo spiegano i sindacati sta evidenziando significative distanze. La speranza delle tre sigle è che il proseguimento del negoziato possa far superare queste difficoltà.